Partita la campagna di Pasqua di Associazione Vegani Italiani Ollus, il messaggio è forte e chiaro, invita a riflettere sul quinto comandamento, non uccidere. È possibile scaricare il formato in alta definizione per cartellonistiche, social, poster e volantini dal sito promiseland.it. Dopo il grande successo degli scorsi anni in oltre 100 città si ripete la splendida iniziativa di animalisti italiani Ollus, una Pasqua cruelty free, save the lamb. Il presidente animalisti italiani Walter Caporale. Chi salva una vita salva il mondo intero e con questo slogan che noi animalisti italiani Ollus domenica 20 marzo faremo davanti a centinaia di chiese, di parrocchie e basiliche in tutta Italia per chiedere agli italiani e a chi va in chiesa a prendere il ramoscello d'olivo, simbolo di pace, di non uccidere un bambino, un essere vivente che è appunto l'agnello ma di scegliere menù alternativi al sangue, alla morte e al dolore degli agnelli. Fatelo anche voi davanti alla vostra parrocchia e richiedeteci i volantini gratuitamente insieme agli adesiti con lo slogan di Leonardo da Vinci Non mangio niente che abbia un cuore. Andate sul nostro sito www.animalisti.it o scriveteci a comunicazione-animalisti.it Animali liberi